Se tutto va come devono andare, se ritiamo indietro sui risorti e rubate le casse, al massimo se fa un anno non nemmesso di galera. Talvolta per fare una rapina. E invece di 4 milioni, riporto gli azzurico e poi quando usciamo dal gabbio, dividiamo tutto in parti uguali. Bisogna essere abili diversamente. Pensavo che la faccia era rubare 4 milioni a mafia cinese. In prima visione assoluta, brutti e cattivi. Mercoledì alle 21.15 Rai 4